Si può fare di più! Network Marketing e Ambiente Caldi auguri, guerriglia posting Questo video vuole mettere in evidenza il legame che esiste tra i prodotti venduti dalle aziende di network marketing e la tutela ambientale nonché fare ulteriormente luce sull'iniziativa Ferventi auguri e caldi abbracci partita da LinkedIn nelle festività natalizie 2021 Caldi auguri è nata verso fine novembre in un periodo in cui ovviamente il Natale si avvicinava e essendo il Natale la festa comandata per eccellenza è anche occasione per tutti di ottenere visibilità perché l'attenzione dei consumatori e degli utenti anche sui social è molto elevata Sai che bello sarebbe mandare un messaggio con su scritto non c'è niente da festeggiare perché stiamo facendo un casino cioè un simbolo sul fatto che i cambiamenti climatici stanno rovinando il pianeta e noi ce ne freghiamo altamente e continuiamo a mandarci questi auguri di Natale senza senso grazie a tutti